bentornati amici di bet italia web con una nuova puntata di sport user news and tips parliamo di mlb e di nhl ma anche di football americano ora di nfn abbiamo già parlato ieri abbiamo parlato del monday night con morfeo abbiamo visto le prime linee della week 7 oggi ci concentriamo sul college football andiamo a vedere le prime linee della week 8 e le tante sfide interessanti però andiamo con ordine iniziamo con l'mlb e con l'nhl oggi sul canale telegram il presidente sport user vi abbiamo chiesto quale free pick quale studio volevate visto che sia l'mlb che l'nhl erano quasi in parità abbiamo deciso di darvi una pick di baseball e una di hockey quindi tutti contenti iniziamo proprio dall'mlb due partite questa sera tra l'altro alle 10 orario italiano molto comodo da seguire il big match new york yankees houston astros è stato anche il sondaggio del giorno chi vincerà questa sera questa gara 3 a new york leggero vantaggio per gli yankees secondo voi 57 per cento 43 per cento sugli astros andiamo un po a vedere allora iniziamo con dire che houston è uscita in gara 2 con una vittoria 3 a 2 in extra inning carlos correa è stato l'eroe della serata una partita intensissima houston ha anche rischiato ora va in casa degli yankees che nel bronx hanno tenuto un record di 59 24 l'asso della manica di houston è però garrett cole dominante nelle due sfide dei divisional series contro tampa concesso una sola run in 15,2 inning un arco di tempo molto breve che però gli è bastato per mettere a segno 25 strike out il prodotto di ucla non per niente è stato il migliore della regular season con 326 strike out dall'altra parte per gli yankees lui severino ha lanciato 4 inning senza concedere run nell'ultima uscita contro i twins in post season è molto limitato in questa stagione ha giocato è rientrato a settembre tre start in cui ha giocato in tutto solo 12 inning però ha concesso appena due run inoltre severino lo scorso anno ha dominato houston due vittorie su due con 1 e 13 era la mia free pick è under 7 e mezza 1 86 la linea è bassa però le prime due sfide si sono chiuse entrambe è under a houston spero di vedere under anche a new york l'orario è particolare partirà call che come abbiamo visto è dominante inoltre cole è under 4 1 nelle ultime trasferte l'attacco di houston è stato il migliore in regular season con un 274 in media battuta questo numero però è crollato in post season a 218 mi fa un po' paura severino i suoi numeri in post season non sono in massimo 5 55 era però va detto che comunque non ha fatto malissimo e non dovrebbe lanciare per tantissimo lasciando quindi spazio al bullpen entrambi bullpen sono di grandissima qualità quindi andiamo con under due parole anche su gara 4 washington national san luis cardinal serie sul 3 a 0 i cardinal sono visibilmente abbattuti i national possono chiudere i giochi con uno sweep e pensare alle world series ieri io ci avevo provato sui cardinals con flyer ti invece è arrivato un 8 a 1 per i national il vero problema di san luis è l'attacco perché quando segni solo due rane e 11 valide in tre partite di questa serie hai un problema grosso e stai giocando contro i peggiori rilievi della lega i national oggi partiranno con patrick corby in secondo star di post season lo abbiamo visto anche in questa serie in gara 2 ha giocato da rilievo ha battuto i cardinals anche il 17 settembre scorso due run concesse con 11 strike out in 6 inning in casa dal suo meglio dall'altra parte per i cardinals ci sarà dakota hudson ha sfidato atlanta in gara 4 delle divisional series si è ben comportato il 16 settembre ha battuto i national lungo 7 inning con due run concesse però i suoi numeri in trasferta sono tutt'altro che solidi quindi attenzione e sempre rimarcando il discorso dell'attacco dei cardinals ieri i pitcher di Washington si sono presi il lusso di mettere a segno 16 strike out e di non concedere nemmeno un walk nemmeno una base su ball per San Luis uno dei giocatori simbolo di questo crollo dell'attacco è Paul Goldschmidt 0-4 ieri in battuta 1-12 con 6 strike out subiti in questa serie numeri davvero pessimi passiamo all'ho che è NHL iniziamo subito ci sono 7 partite voglio dire 2 cosine su tutte e iniziamo dalla free pick una free pick in cui conveniamo sia io che Morfeo non succede sempre però a volte capita e questa volta è su Calgary Flames Philadelphia Flyers abbiamo consigliato i Flyers a 2 e 27 vincenti a Calgary match up giusto per i Flyers perché i Flames stanno deludendo hanno perso 3 delle ultime 4 partite compreso il recente 3-1 a San José di domenica scorsa in porta David Rittik ha concesso 4 o più goli in 3 partite su 5 e affronterà i Flyers che in attacco viaggiano con 35 tiri di media inoltre Philadelphia ha perso l'ultima ma l'ha persa 3-2 a Vancouver agli shot out ha un giorno in più di riposo e la vera forza dei Phillies è quella della difesa questa squadra sta concedendo solo 27 tiri di media e 1,67 gol agli avversari quindi considerando i problemi offensivi di Calgary vediamo molto meglio i Flyers che inoltre in porta non schiereranno Hart ma schiereranno Brian Elliott un ex dei Flames contro la sua ex squadra ottimi numeri 9-4 di record con 1,96 gol subiti di media quindi Underdog i Serata Flyers a 2,27 facciamo però un passo indietro l'una di notte si apre con Toronto Maple Leaf Minnesota Wild ieri i Wild si sono sbloccati dopo 4 sconfitte hanno vinto ad Ottawa e noi siamo andati in cassa sul nostro canale il presidente sportusa Vip contattateci per sapere come entrare e per supportare il nostro lavoro oggi però Minnesota è atteso un back-to-back difficile a Toronto in porta torna il titolare Devan Dubnik non è un bene perché le ha perse tutte e quattro finora ha concesso più di 4,5 gol di media inoltre i Wild hanno perso per infortunio Mats Zuccarello il grande acquisto della thread deadline dello scorso anno da New York dall'altra parte Toronto risponde con il suo attacco Austin Matthews con Frederick Anderson in porta quindi giustamente favoriti Maple Leaf anche se la quota è molto bassa ed è pure in discesa a 1,42 passiamo a Montreal Canadiens Tampa Bay Lightning Canadiens che arrivano da 6 a 3 sui Blues attenzione perché invece i Lightning grandi favoriti di questa stagione dopo il clamoroso sweep al primo turno negli scorsi play-off stanno deludendo hanno perso 3 delle ultime 4 partite tutte in trasferta compreso il 4-2 ad Ottawa si è infortunato Cedric Paquette che non tornerà prima di fine mese dall'altra parte invece Montreal attenzione a Carey Price perché è stato bersagliato come nessun altro ha subito 35,5 tiri di media ma ne è uscito davvero alla grande il portiere veterano di Montreal se consideriamo che ha tenuto un 901 di percentuale salvataggi chissà come se la caverà oggi contro l'attacco di Tampa che sta deludendo sta tirando poco però oggi i Lightning sono attesi è una bella prova anche offensiva la quota però è in salita 1,74 passiamo a Winnipeg con i Jets che sfideranno i Coyotes Arizona ha perso 3 delle prime 4 uscite stagionali tutte da under si è rivisto in porta anti-ranta il problema però è sempre offensivo e questo si è tradotto in 4 under su 4 dall'altra parte però i Jets sono una squadra altalenante dopo 3 vittorie hanno perso 7-2 contro i Penguins Winnipeg però sta andando bene se consideriamo che ha 3 assenze importanti con cui fare i conti nelle ultime stagioni i Jets sono stati un vero incubo per Arizona 14 vittorie su 18 per Winnipeg inoltre i Coyotes hanno perso un giocatore importante come Yalmarsson le quote favoriscono ovviamente i Jets a 1,74 leggermente in discesa da 1,76 di qualche ora fa passiamo a Vancouver dove i Canucks ospitano i Red Wings Canucks che hanno perso le due trasferte stagionali ma hanno vinto le due in casa stanno concedendo davvero poco difensivamente con Jakob Markstrom in porta ma questa notte non ci sarà problemi personali al suo posto debutto stagionale per il backup Thatcher Demko che sfiderà i Red Wings che hanno iniziato la stagione meglio del previsto tre vittorie nelle prime quattro partite poi nell'ultimo uscito sono tornati con i piedi per terra hanno perso 5-2 in casa contro Toronto passiamo a Vegas dove i Golden Knights ospitano i Predators nella sfida che sulla carta è la più bella della notte Vegas è già la settima partita stagionale 4-2 nelle prime 6 i Golden Knights arrivano da due vittorie in cui hanno segnato 11 gol i Predators invece arrivano da una brutta sconfitta da lei hanno perso 7-4 con il backup Saros in porta oggi torna Peccarine però il vero problema di Nashville stranamente non è l'attacco che non ha problemi a mettere insieme gol ma è la difesa quindi attenzione all'over anche se la linea è piazzata a 6,5 gol totali se seguirete questa partita avrete la fortuna di seguirla in live alle 4 di notte purtroppo attenzione perché se vedete che i Predators sono ancora in partita alla fine dell'ultimo all'inizio dell'ultimo quarto potreste giocare live su Nashville perché perché i Predators sono finora la miglior squadra come gol segnati nell'ultimo periodo 15 su 23 quindi se li troverete oltre la pari fateci un pensierino al momento si giocano in pre-match a 2-15 per la vittoria Vegas invece è data 1-74 chiudiamo a LA con i Kings che sfidano gli Harry Kane Kings hanno fatto quasi un miracolo a vincere due partite delle prime 5 perché la difesa è imbarazzante Jonathan Quick in particolare è un portiere che ha diverse stagioni sulle spalle ma ha numeri da giocatore che non ha mai visto il ghiaccio 6-43 gol subiti di media con un 793 di percentuale salvataggi anche oggi Quick è favorito da titolare nonostante il nome del backup Jake Campbell si faccia sempre più invadente e non è che Campbell abbia questi di gran numeri quasi 3,5 gol subiti di media e un 885 di percentuale salvataggi ovvio che paragonati ai numeri e al rendimento di Quick sembra un fenomeno con questi numeri i Kings hanno sempre segnato over nelle prime 5 uscite stagionali pensateci anche oggi con gli Harry Kane che sono una squadra che è partita bene 5 vittorie di fila anche se hanno perso l'ultima 3-2 contro i Blue Jackets con in porta James Reimer oggi dovremmo rivedere Petr Mrazek ok breve pause poi andiamo a vedere le partite più interessanti della prossima week di College Football rieccoci per parlare della week 8 di College Football andiamo a vedere le sfide più interessanti una delle quali è senza dubbio Penn State Nittany Lion contro Michigan Wolverine Penn State è la settima miglior squadra del ranking nazionale Michigan è sedicesima e Penn State però è favorita a meno 9 in questa sfida in casa in Nittany Lion sono ancora imbattuti 6 vittorie su 6 arrivano da un altro big match vinto una sfida fisica difensiva 17-12 contro Iowa una grande prova di forza per Penn State mentre i Wolverines di Jim Arbro convincono molto meno per esempio arrivano dalla vittoria in Illinois ma non hanno coperto l'handicap sono 2-4 ATS nelle scommesse stanno rendendo meno del previsto giustamente Penn State favorita dalle quote quasi in doppia cifra forse è un tantinello tanto è un tantinello alto altro big match Washington Huskies Oregon Ducks Washington 23esima nel ranking nazionale Oregon 12esima gli Huskies giocano in casa ma sono sfavoriti con più 3 punti di handicap i Ducks hanno un record di 5-1 dopo la sconfitta al debutto hanno sempre vinto in week 7 la scorsa settimana hanno dominato 45-3 contro Colorado avevo pensato di prendere i Ducks si giocavano però a meno 20,5 punti di handicap ero un po' intimorito alla fine ho desistito e ho sbagliato Ducks favoriti anche in questa settimana anche se con solo un field goal d'immagine perché la trasferta a Washington è impegnativa gli Huskies hanno un record di 5-2 sono anche 5-2 ATS nelle scommesse nell'ultima uscita hanno dominato in Arizona 51-27 passiamo a South Carolina Gamecocks contro Florida Gators le linee di questa partita sono state per lungo tempo off sono uscite da poco South Carolina gioca in casa ma è sfavorita a più 5,5 anche perché i Gamecocks sono fuori dalla top 25 mentre Florida è nona va però detto una cosa la linea è stata off perché Ryan Ilinsky il quarterback dei Gamecocks è uscito la scorsa settimana durante il terzo quarto in Georgia dove South Carolina ha vinto a sorpresa 20-17 dopo un doppio overtime pensate che in quella partita l'upset è stato forte perché South Carolina era sfavorita con più 20,5 punti di spread in appoggio si portano 4-2 ATS nelle scommesse Gamecocks quest'anno hanno già sorpreso parecchie volte potrebbero farlo anche contro i Gators che hanno preso un bel ceffone la scorsa settimana a LSU chissà come ne usciranno hanno perso 28-42 in una partita importante che doveva essere punto a punto vedremo come ne usciranno parliamo anche di Oklahoma State Cowboys contro Baylor Beers i Beers grande sorpresa della stagione record di 6-0 arrivano ad una vittoria dopo un doppio overtime Texas Tech attenzione sono sfavoriti con più 3,5 punti nella trasferta contro i Cowboys che proprio contro Texas Tech hanno perso in week 6 la scorsa settimana hanno riposato hanno avuto la settimana di bye staremo a vedere se Baylor metterà segno un'altra vittoria un'altra risposta agli scettici passiamo Louisville Cardinals contro Crimson Tigers Cardinals giocano in casa ma sono dati a più 24 perché Clansson è la seconda migliore squadra della nazione per i bookmaker è la favorita al titolo anche quest'anno secondo le quote antepost i Tigers hanno vinto le prime 6 partite sono ovviamente ancora imbattuti hanno dominato anche a Florida State la settimana scorsa 45-14 hanno dominato più di quanto mi aspettassi perché i seminoles recuperavano Blackman insomma non me lo aspettavo mi aspettavo la vittoria ma non così ampia vedremo se copriranno l'handicap di meno 24 anche a St. Louis questa week 8 passiamo a Oklahoma Sooners West Virginia Mountaineers i Sooners sono favoriti ancora di più meno 33,5 punti numero 5 del ranking nazionale 6 vittorie su 6 Oklahoma la settimana scorsa in Texas ha faticato davvero ha vinto ma ha vinto in overtime già le Nards ha tolto le castagne dal fuoco un'altra grande prestazione 235 yade 30 touchdown su passaggio a cui aggiunge 131 yade e un touchdown su 17 portate su terra i Mountaineers hanno perso le ultime due partite incassando 80 punti totali li vedo davvero molto male ad Oklahoma contro l'attacco dei Sooners così come vedo male Mississippi State Bulldogs che giocano in casa ma sono sfavoriti a più 19 contro LSU Tigers i Tigers sono saliti giustamente al terzo posto del ranking nazionale hanno vinto le prime 6 partite compreso il 42 28 contro Florida altra grandissima prova di Joe Barrow uno dei migliori quarterback della nazione ha lanciato per quasi 300 yard con 3 TD pass dall'altra parte Bulldogs programma modesto record di 3-3 rientrano dopo due sconfitte in trasferta staremo a vedere passiamo a Rutgers Scarlet Knights contro Minnesota Golden Goffer a proposito di programmi modesti qui siamo programmi pessimi quello di Rutgers che ha iniziato la stagione con un record di 1-5 anche 1-5 ATS nelle scommesse anche la scorsa settimana demoliti pure nell'Indiana 35-0 dall'altra parte invece c'è Minnesota ventesima forza del ranking nazionale 6 vittori su 6 dovrebbero sulla carta questa è una trasferta davvero agevole contro gli Scarlet Knights che nelle ultime 5 partite sono riusciti a segnare 23 punti non di media in totale passiamo a una sfida interessante tra due programmi che sono rientrati nella top 25 un po' sorpresa e sono Southern Methodist Mustang contro Temple Olves il Mustang è al numero 25 sono ancora imbattuti 6 vittorie su 6 arrivano dal 43-27 in overtime contro Tulsa dove non sono riusciti a coprire l'indica per la prima volta in stagione quindi ottimi anche nelle scommesse dall'altra parte Temple 3 vittorie di fila prova della maturità superata la settimana scorsa contro Memphis i Tiger sono stati battuti 30-28 Temple oggi è sfavorita ha più di un touchdown in appoggio più 7,5 punti di handicap sarà interessante ragionare su questa sfida poi vediamo a proposito di Memphis Memphis Tiger contro Tulane Green Wave questi sono invece due programmi fuori dalla top 25 del ranking nazionale ma ne voglio parlare entrambi hanno un record di 5-1 i Green Wave hanno anche un ottimo 5-1 ATS nelle scommesse giocano un bellissimo football d'attacco lo abbiamo visto anche in Connecticut la settimana scorsa hanno vinto 49-7 quarta vittoria di fila hanno sempre coperto l'handicap in questo arco di tempo dall'altra parte invece Memphis deve rispondere alla prima sconfitta stagionale ne abbiamo parlato prima il 28-30 contro Temple sfida davvero interessante Memphis si apre favorita con meno 4,5 punti di handicap ha una prima occhiata così a sensazione senza approfondire mi piace di più Tulane sfavorita passiamo a Utah Utes contro Arizona State Sun Devils gli Utes quattordicesimi del ranking nazionale sono favoriti con meno 13,5 punti di handicap quindi quasi due touchdown da coprire nonostante sfidino i Sun Devils che sono a loro volta a 17esimi nel ranking nazionale questi sono due programmi entrambi con un record di 5-1 e hanno anche lo stesso rendimento nelle scommesse 3-3 ATS entrambi sono programmi da under Utah ha segnato 5 under nelle prime 6 partite Arizona State 4 under non per niente la linea totale è a 48,5 punti che per i canoni per gli standard di college football è abbastanza bassa gli Utes dopo la sconfitta in South Carolina hanno vinto e coperto l'handicap sia contro Washington State che a Oregon State hanno segnato 90 punti concedendone solo 20 i Sun Devils arrivano a loro volta da due vittorie in cui hanno sempre coperto l'handicap e hanno risposto molto bene alla sconfitta contro Colorado andiamo in Alabama Crimson Tide miglior squadra della nazione la linea più alta a meno 34,5 punti in casa contro i Tennessee Volunteers i Crimson Tide sono ovviamente ancora imbattuti 6 vittorie su 6 hanno il miglior QB della nazione il mitico Tua che la settimana scorsa contro Texas A&M ha lanciato per quasi 300 IAR con 4 TD persi e un intercetto Alabama ha vinto 47 a 28 e ha coperto l'handicap siamo andati in cassa anche noi era un handicap meno della metà di quello che dovevano coprire oggi in casa contro i Volunteers i Volunteers però sono un programma che non fortissimo quest'anno record di 2-4 2-4 anche ATS staremo a vedere chiudo con Brigham Young Cougars contro Boys State Broncos ne abbiamo parlato ieri di Boys State con Morfeo i Broncos sono saliti al tredicesimo posto del ranking nazionale sono ancora imbattuti 6 vittori su 6 un grande gioco d'attacco lo abbiamo visto anche la settimana scorsa contro Hawaii hanno vinto 59 a 37 nonostante Batch Mayer il quarterback titolare sia uscito nella prima fase di gara per infortunio rimane in dubbio dopo di lui si sono alternati due backup che hanno comunque lanciato benissimo e per questo Boys State è favorita con meno 6,5 punti di handicap anche in questa trasferta a Brigham Young i Cougars hanno un record di 2-4 e arrivano da tre sconfitte dove non hanno mai coperto l'handicap per tutti i dettagli di queste partite per le giocate le scommesse come sempre canali telegram non ve lo ripeto più e soprattutto podcast nei prossimi giorni andremo ad approfondire le giocate e le partite di college football di NFL di MLB di NHL e come abbiamo anticipato ieri anche di calcio con l'MLS visto che iniziano i playoff che seguirà il buon Morfeo grazie a tutti per l'attenzione un saluto e puntate sempre con la testa ciao